Salerno. Riqualificazione ambientale a Salerno. La Giunta approva il progetto. Un albero per abitante. L'obiettivo è quello di incrementare aree verdi della città. Soddisfatto l'assessore Natella. Il progetto di messa a dimora di nuove alberature finanziato dalla Regione Campania. Esprimo soddisfazione per l'avvio di questo progetto, non scontato, che ha ulteriormente caricato di attività all'ufficio verde pubblico. Oltre alla già intensa azione di manutenzione, gravata dalla carenza di organico e di limitate risorse.